È stato importante che Klose fosse lì, al posto giusto, nel momento giusto, per segnare quel gol di Carambola. È un sollievo che alla fine abbia raggiunto proprio contro l'Austria i gol in nazionale segnati da Gerl Müller. Nella forma in cui è Miro adesso può segnare ancora contro le Faroer martedì e quindi fare la storia. E lo meriterebbe perché Miroslav Klose ha lavorato duro per tanti anni, ha lottato e ha servito questa nazionale in modo a mio avviso eccezionale. Il suo score in nazionale è impressionante.